carissimi amici e amiche che stiamo ormai affrontando da dall'anno pastorale scorso con la differenza che quest'anno riusciamo a intensificare un pochino le cadenze quindi facendo la cadenza bimensile avremo un po più si spera di regolarità per chi è interessato a questo ciclo e quindi poi anche di continuità la volta scorsa in catechesi precedenti abbiamo concluso la prima parte del catechismo di San Piovesimo di ogni catechismo ogni catechismo l'abbiamo visto nella prima puntata se non ricordo male è sempre strutturato in forma quadripartita quindi prima ciò in cui dobbiamo credere quindi gli articoli del credo poi ciò che dobbiamo fare per andare in paradiso quindi comandamenti che cominceremo questa sera e poi siccome i comandamenti non si possono osservare senza la grazia di Dio i sacramenti e poi la preghiera facile facile allora cominciamo questa sera nella sezione dedicata ai comandamenti che nel catechismo di esempio decimo ha alcuni numeri di carattere introduttore quindi che parlano dei comandamenti in generale e poi comincia la disamina la disanima la disamina puntuale particolareggiata di ogni singolo comandamento sempre in forma molto precisa se vogliamo per certi aspetti anche schematica e per quanto riguarda certamente i comandamenti limitata nel catechismo all'essenziale non voglio rimandare alle antiche catechesi su dieci comandamenti ma certamente il discorso su ogni singolo comandamento può essere può essere e di questi tempi forse opportuno ampiamente articolato in ogni caso la trattazione che nel catechismo di esempio decimo come sempre vedremo che è breve chiara ed esaudiente allora cominciamo la lettura parte secondo i comandamenti di dio per scelti della chiesa virtù ossia morale cristiana capo primo i comandamenti di dio se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti matteo 19 17 se mi amate osservate i miei comandamenti giovanni 14 15 primo paragrafo i comandamenti di dio in generale numero 161 come sempre leggiamo e poi faremo qualche parola qualche intervento di commento che cosa sono i comandamenti di dio i comandamenti di dio decalogo sono le leggi morali che dio nel vecchio testamento diede a mosè sul monte sinari e gesù cristo perfezionò nel nuovo che cosa ci impone il decalogo il decalogo ci impone i più stretti doveri di natura verso dio noi stessi e il prossimo come pure gli altri doveri che ne derivano per esempio quelli del proprio stato 163 i nostri doveri verso dio e verso il prossimo a che si riducono i nostri doveri verso dio e verso il prossimo si riducono alla carità cioè al massimo il primo comandamento dell'amore di dio e a quello simile dell'amore del prossimo e da questi due comandamenti disse gesù cristo dipende tutta la legge i profeti matteo 22 38 40 e la formula 14 che appunto nella formula 14 ha descritto il duplice precetto della carità tutte cose che dovremmo opportunamente sapere a memoria il duplice precetto dei quali sono i due precetti della carità amerai il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente e tutta la tua forza il prossimo come te stesso finisco proprio il paragrafo così e poi cominciamo un commento diciamo articolato perché già ci sono diverse cose su cui soffermarsi però siccome sono tutti quanti un po concatenati questi questi numeri è meglio prima dare la lettura integrale poi riprendere con qualche notazione con qualche blossa numero 164 perché il comandamento dell'amore di dio è il massimo comandamento il comandamento dell'amore di dio è il massimo comandamento perché chi lo osserva amando dio con tutta l'anima osserva certamente tutti gli altri comandamenti mezz'ora ci staremmo poi se dio vuole con questa affermazione oggi proprio completamente o quasi completamente disattesa ma avanti non cediamo alla tentazione di parlare prima del tempo 165 comandamenti di dio si possono osservare i comandamenti di dio si possono osservare tutti e sempre anche nelle più forti tentazioni con la grazia che dio non nega mai a chi lo invoca di cuore 166 siamo obbligati a osservare i comandamenti di dio siamo obbligati a osservare i comandamenti di dio perché sono imposti da lui nostro padrone supremo e dettati dalla natura e dalla sana ragione 167 chi trasgredisce i comandamenti di dio pecca gravemente chi deliberatamente trasgredisce anche un solo comandamento di dio in materia grave pecca gravemente contro dio e perciò merita l'inferno numero 168 nei comandamenti che cosa si deve notare nei comandamenti si deve notare ciò che è ordinato e ciò che è proibito chapeau come sempre magistrale adesso torniamo un pochino indietro e cominciamo a fare qualche piccolo qualche piccola notazione di di commento c'è da sperare che si sia sentita abbastanza bene adesso sicuramente si sentirà un po meglio allora li percorriamo questi numeri anzitutto i comandamenti i comandamenti i comandamenti non sono semplicemente quelli del decalogo ma quelli del decalogo perfezionati da gesù nel nuovo non so quanti di voi ricordano questo sono passati a me è passato qualche anno io stavo a borgosa michele ci feci qualche omelia insomma no perché senza fare nomi anni fa un noto diciamo così personaggio un istrione del mondo diciamo della comicità quando fare uno show in qualche trasmissione ad ampio diciamo così ad ampio share dove andava praticamente cianciando guarda caso sul sesto comandamento dicendo ma il sesto comandamento non è non commettere atti impuri prendete la bibbia aprite il capitolo 20 del libro dell'esodo e troverete non commettere adulterio quindi tranquilli basta non tradire la moglie o il marito il resto è tutto quanto lecito peccato che se uno stesse al decalogo dell'esodo noi dovremmo avere come giorno sacro non la domenica ma è il sabato perché lì c'è scritto non ricordare di santificare le feste ma c'è scritto ricordare del giorno di sabato per santificarlo allora il decalogo è stato completato da gesù da gesù anzitutto e da san paolo anche per esempio tutti quanti sanno che il quinto comandamento c'è stato il discorso della montagna dove gesù affronta il quinto comandamento il sesto comandamento avete inteso che fu detto non commettere adulterio io vi dico che sono guarda una donna per desiderarlo già come satulterio se la mano ti scandalizza tagliala a questo proposito se l'occhio ti scandalizza cavalo e se il piede ti scandalizza cavalo taglialo ma ci vuole se dentro questo contesto Gesù dice se la mano ti scandalizza tagliala bisogna fare il disegnino per capire a che cosa a che cosa fa riferimento non credo no quindi quindi certamente il brogliaccio il canovaccio immutabile tra l'altro dei dieci comandamenti è il decalogo mosaico ma il decalogo mosaico è stato Gesù dice non sono venuto per abolire ma per dare compimento per dare compimento in greco è il verbo teleo cioè è per completare quindi per perfezionare quindi per portare tutto alla perfezione quindi lo ribadisco e ne dilato l'ambito di applicazione perché non commettere adulterio è sempre un peccato contro il sesto comandamento ma non è più l'unico come mai nel 1200 circa avanti cristo era stato detto non commettere adulterio perché era già un miracolo per il grado di corruzione dell'umanità se a quei tempi si riusciva ad avere un minimo di rispetto almeno per questo cosa che peraltro non si riuscì ad ottenere perché come tutti quanti sanno fu permesso e Mosè stesso permise tanto è vero che l'argomento che opposero i farisei a Gesù sulla presunta indissolubilità del matrimonio gli permisero di lasciare il libello di ripudio questo ci fa anche comprendere come attenzione la legge di Dio non è graduale in sé non c'è una gradualità della legge ma c'è sicuramente la legge della gradualità nel senso che la condizione dell'uomo post peccato originale era disastrosa per cui il nostro Signore Gesù Cristo come tutti quanti sappiamo e come insegna la Chiesa e anche la liturgia della Chiesa è venuto nella pienezza dei tempi cioè secondo il calendario biblico dopo 4.000 anni dalla creazione e dopo 2.000 anni di storia della salvezza cominciata da Abramo passata per tutta quanto una serie di vicissitudini per una montagna di materiale biblico la Torah i libri storici i libri sapienziali i profeti quindi una scuola durata 2.000 anni prima che come dire almeno l'ebraismo fosse arrivata ad un'età diciamo così spiritualmente matura tale di per sé da essere in grado di poter accogliere Gesù e il suo messaggio perché questo non è mica detto che si possa dare per scontato il nostro Signore ha seguito una pedagogia è chiaro che la prima cosa che devi imparare per esempio è non commettere adulterio ma poi dovrai anche capire qualche cosa di più su questa materia che era già molto di più ma poi c'è ancora altro ancora da comprendere come ricorderemo insomma chi proprio su questa materia chi ha seguito il ciclo l'anno scorso delle categorie sul peccato originale no? allora il decalo che impone i più stretti doveri di natura verso Dio cioè i primi tre e poi verso noi stessi il prossimo cioè dal quarto al decimo evidentemente anche gli altri doveri che ne derivano per esempio quelli del proprio Stato tutti quanti dobbiamo ricordare che quando andremo dall'altra parte qui non ci sono preferenze di persone ricordiamolo il nostro Signore ci presenta i dieci comandamenti perfezionati dal dal Vangelo evidentemente dal Nuovo Testamento più i doveri del nostro Stato lì c'è l'esame per tutti e non ci sono sconti né e ripeto preferenze di persone per nessuno ora i nostri doveri verso Dio del prossimo si riducono la carità massimo al primo comandamento ma il punto che volevo appunto che ho che ho già avuto modo di evidenziare è il 164 il comandamento dell'amore di Dio è il massimo comandamento perché chi lo osserva amando Dio con tutta l'anima osserva certamente anche tutti gli altri comandamenti se c'è un comandamento oggi a mio avviso in crisi anche lì dove in crisi non dovrebbe essere è il comandamento dell'amore di Dio noi siamo in un contesto socio-culturale dove c'è stata questo lo si diceva nelle teologie moderniste del secolo scorso la cosiddetta svolta antropologica Karl Rahner ha parlato di questa cosa uno dei teologi più in del secolo scorso svolta antropologica significa che al centro del pensare al centro dell'attenzione al centro del filosofare e anche del teologare non c'è più Dio c'è l'uomo con la scusa e con il pretesto per carità di per sé vero che l'uomo è la vetta della creazione che il verbo si è fatto carne e quindi che l'uomo ogni essere umano con tutte e quante cose vere ha di per sé un valore inestimabile è un essere unico ha una dignità a prova particolare ma con tutte quante queste cose si è però commesso l'errore di passare direttamente a guardare l'uomo e a fare attenzione all'uomo come se non dice vabbè facciamo attenzione all'uomo vabbè Dio per carità dobbiamo comunque dargli un'attenzione ma un'altra cosa in questo è stato Immanuel Kant uno dei primi a formulare un tentativo di costruzione di una morale cosiddetta laica che aveva appunto come 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 fulcro come cuore come perno come principio l'uomo agisce in modo che il prossimo sia sempre da considerare come fine ma come mezzo nobile nobile intento nobile espressione no? ma è tutto qui? Allora l'amore di Dio c'ha due come dire forti motivazioni o se preferiamo causalità che lo animano primo Dio è il sommamente amabile e il sommamente da amare in latino ci vorrebbe la peritastica passiva però il sommamente amando dovremmo dire ma amando sarebbe un termine equivoco quindi sommamente da amare amabile perché lui non c'è niente che non è amabile e da amare perché tutto quello che c'è tutto quello che io sono dipende da lui quindi lui merita tutto il nostro amore e lo merita come atto dovuto tra l'altro come atto quindi ecco perché è il primo e il più grande comandamento tutto il cuore tutta l'anima e tutte le forze cioè tutto è solo per lui significa che tutte le altre cose hanno una parte io amo che ne so parlo in maniera impersonale ovviamente non parlo per me amo mia moglie con una parte di me stesso anche con una grande parte amo mio figlio con una larga parte di me stesso parliamo un po' di più degli amori onesti quindi amo mia madre mio padre con una parte di me stesso amo il lavoro con una parte di me stesso amo la sana la bella scienza la conoscenza che è un'altra di forma di amore recito certo ma con una parte di me stesso solo Dio si ama con tutto con tutto me stesso con tutto il cuore sopra ogni cosa cioè Dio viene al primo posto quindi prima di ogni altra cosa e con Dio non c'è limite tutto il cuore tutta l'anima tutte le forze questo per quanto riguarda quello che spetta a lui in quanto lui ma c'è poi anche l'altra il secondo step che è quello considerato dal numero del carichismo cioè attenzione perché i comandamenti anche quelli verso il prossimo li osserva perfettamente e inesorabilmente solo chi ama Dio con tutto se stesso per cui i cosiddetti filantropi e i fautori di una morale laica per quanto possano compiere tentativi rispettabilissimi e anche come dire sotto certi punti di vista quindi vedendo le cose da un'altra prospettiva anche lodevoli ma destinati al fallimento perché se tu non ami Dio non amerai il prossimo ricordiamo quello che diceva sempre Santa Teresa quando le facevano tanti complimenti per quello che faceva eccetera eccetera no? lei diceva sempre lo sapete perché faccio questa cosa a volte qualcuno magari si sarà pure scandalizzato un po' io faccio questa cosa non per il povero per l'ultimo degli ultimi fini a se stesso no? ma io lo faccio perché il Signore ha detto quando fate qualcosa a uno di questi piccoli io sono andato a cercare gli ultimi quindi più infini l'avete fatto a me io sto amando Gesù amando l'ultimo degli ultimi e amo l'ultimo degli ultimi perché me l'ha detto Gesù questo deve sempre cioè allora come facciamo un pochino di esempi supponiamo che una persona me l'ha fatta grossa quanto una casa cioè è chiaro che se una persona me l'ha fatta grossa quanto una casa a me viene spontaneo cioè il rancore in questi casi il risentimento nasce spontaneo me l'ha fatto grande quanto una casa e come dire anche il desiderio non troppo quindi senza fargli troppo male però e fargliela un po' scontà può può salire anche a certi livelli e perché non non lo metto in atto contrasto il rancore prego per questa persona non mi vendico perché l'ha detto Gesù e anche nell'antico testamento che si vendica la vendetta del Signore e che gli terrà sempre presente i suoi peccati allora standoci questo siccome io il mio Dio lo amo e quindi mi interessa quello che dice e mai io gli disobbedirei a occhi aperti non vuole che io mi vendichi e non mi vendico vuole che io addirittura preghi per chi mi ha fatto del male e ci prego vuole che lo perdoni come disse Santa Maria Coretti di Alessandro Serenelli lo perdoni lo perdono di cuore voglio che stia accanto a me in paradiso perché? perché l'ha detto Gesù punto sono onesto voi sapete le persone ci sono ho sentito di storie molto belle molto edificanti di persone che per esempio sono andate al supermercato facciamo sempre gli esempi perché gli esempi sono sempre quelle che rimangono sono accolti che hanno avuto un resto superiore quindi che ne so avevo speso 8 euro e 50 gli do la 10 euro e quello se sbagli anziché dammi 1 euro e 50 mi dà 6 euro e 50 come se pensasse che fossero torno a casa e dico che è sta roba e se ne accorge a tutti quanti dicono vabbè metto un tasca tanto ormai è andata no si prende la macchinetta e si torna a quel posto e si dice guarda che io ho spagato 3,50 ho spagato 8,50 tu mi hai dato per il resto 6,50 ma 5 euro sono i tuoi te li riprendi e questo si fa per amore di Dio provate a fare se vi capita provate a farlo qualcosa del genere vedrete poi se c'è gente alla casa le facce che fanno è una grande testimonianza no? una grande edificazione Dio ha detto di non andare ad indagare sulla realtà eh sulla realtà tutti quanti i peccati sullo primo comandamento lo spiritismo la divinazione la necromanzia tutte quante queste cose qui no? Dio non vuole che si vada ad indagare sul regno dei morti e non lo faccio ah mi piacerebbe tanto sapere che fino ha fatto i miei padri e i miei madri che sono morti entrare in contatto con loro e c'è il medium X e c'è il medium Y sì se sentite la loro stessa voce quindi fammi andare a vedere no non lo faccio perché? perché Dio non vuole e quando noi amiamo una persona cioè amiamo veramente una persona sapete quando è che cioè se io amo veramente una persona io non farò mai una cosa che mi dispiace a meno che non sia strettamente indispensabile faccio un esempio proprio sciocco se io amo una persona e quella persona si sente male capisco che c'è bisogno di essere portata al pronto soccorso e lì soffrirà ma ce la devo portare al pronto soccorso non la voglio far soffrire non la porto al pronto soccorso quindi questi casi sta a stare ma fuori di questi casi ma non gli darò mai un dispiacere non la farò mai soffrire se gli voglio veramente bene no o quantomeno se mi dovesse capitare so tutte quante cose fatte in maniera involontaria non che volontariamente dico beh questa cosa gli dispiace ma gliela faccio per dispetto ma nessuno farebbe una cosa di questo genere no se è amore autentico anche umano quindi l'amore di Dio viene al primo posto l'amore di Dio col cuore cuore sia come il centro profondo alla ebraica quindi il centro profondo della persona dove avvengono tutte quante le decisioni e in tutte quante le decisioni deve essere sempre Dio il criterio principale di ispirazione che sta al primo posto ma anche il cuore come centro dell'affettività umana all'occidentale l'anima sia alla orientale tra l'altro come qui la intende il catechismo dell'esempio 10 quindi l'anima come la persona l'essere umano creato da Dio e nello stato in cui si trova oppure l'anima in senso occidentale in senso filosofico quindi in senso filosofico che l'anima Aristotele la chiamava l'anima razionale no? che la nostra anima si distingue da quella degli animali qualcuno la chiama spirituale qualcuno la chiama razionale appunto perché il raziocinio è il punto di riscontro più significativo del fatto che la nostra anima sia spirituale non semplicemente un'anima immateriale o sensitiva come quella degli animali no? quindi con tutta l'anima con tutta l'intelligenza l'intelligenza che si occupa a conoscerlo sempre meglio e che si occupa anche ad adorarne i disegni anche quando sono impescutabili quando sono dolorosi quando noi non li capiamo e poi con tutte le forze quindi a costo di qualunque sacrificio dimostrandogli anche il mio amore sapendo soffrire e offrire con lui e per lui non dimentichiamo è solo chi osserva il primo comandamento quello dell'amore di Dio osserva certamente anche tutti gli altri quindi quando uno trasgredisce qualche comandamento a luce di questo deve dirsi qui non c'è semplicemente un problema di qualche vizio di qualche attaccamento al peccato qui c'è un problema che io non amo veramente e ancora totalmente Dio la cosa dipende lo conosco ancora poco approfondisci la conoscenza sto poco con lui prega di più mi sento debole e fiacco usa più e meglio i sacramenti un'altra cosa molto importante i comandamenti di Dio si possono osservare sentite la risposta anche qui faremo un po' di esempi i comandamenti di Dio si possono osservare tutti e dieci e sempre anche nelle più forti tentazioni con la grazia di Dio che Dio non nega mai a chi lo invoca di cuore quando noi facciamo qualche caduta ma mica ci verrà in mente di dire che colpa del Signore che mi ha dato la grazia come una delle bestemmie più grandi che si possano proferire è accusare Dio della dannazione di qualcuno Dio non è causa della dannazione ma proprio di nessuno allora tutti e sempre tutti i comandamenti di Sexto si può vivere la castità perfetta nel proprio stato di vita certamente che sì da adolescente quando c'è gli ormoni in fibrillazione potrà un adolescente non commettere mai un peccato impuro solitario certamente sì mai mai potrà una coppia di sposi vivere soltanto la santità in maniera sana e santa certamente sì faccio riferimento a queste cose perché come sappiamo tutti quanti uno dei punti deboli maggiori dell'essere umano perché c'è la concupiscenza carnale proprio la libido è questo e c'è chi pensa che sia impossibile mantenersi casto ma non è vero allora ci vuole la grazia di Dio certo noi non siamo pelagiani non siamo stoici senza di meno potete fare nulla ha detto Gesù nel Vangelo ma possiamo pensare che Dio faccia mancare la grazia di osservare i suoi comandamenti quando lui li ha dati e vuole che siano osservati e quando Gesù Cristo è morto in croce per darci la grazia pensare che noi abbiamo la grazia sufficiente sarebbe anche questa una bestemmia potrebbe essere vero se tu non attingi alle fonti della grazia è chiaro che se tu vivi una vita lontana da Dio non ce la farai soltanto che non li osservi ma non è non è possibile che tu li osserva San Tommaso d'Aquino dice mentre dice che con la grazia di Dio quello che dice il Catechismo si possono osservare tutti e dieci i comandamenti e sempre senza cadute dice anche però che una persona che non sta in grazia di Dio non è possibile che stia troppo tempo senza commettere un peccato mortale impossibile dice mamma ha preso una tentazione proprio di quelle i comandamenti si possono osservare per sempre anche nelle più forti tentazioni perché le tentazioni sono strumenti di santificazione ci arrivano non e chiaramente il diavolo ce ne manda per farci cadere ma il Signore le permette perché noi possiamo trionfare e andarci ad acquisire medaglie per il paradiso corone per il cielo eh questo è poi attenzione ma i comandamenti sono un optional oppure bisogna osservarli i comandamenti bisogna osservarli come è un altro discorso quello che nessuno può essere costretto a osservare i comandamenti e neanche Dio ci costringe ma il fatto che non ci costringe obbligare e costringere sono due cose differenti obbligare significa dire a una persona guarda che questa cosa la devi fare necessariamente perché non farla è male male significa che male ti fai e male fai male significa che offendi Dio e male significa che metti a repentaglio la tua eterna salvezza quindi questa cosa non la devi fare oppure la devi fare a seconda del tipo di formulazione del comandamento sia negativo al positivo come è chiamata in causa la nostra libertà che io non si tutti i comandamenti li devo conoscere secondo li devo capire terzo li devo accettare li devo riconoscere come veri e quarto devo fare la scelta conseguentemente di osservarli quinto utilizzando tutti quanti i mezzi necessari fuggendo le occasioni di peccato e curando la vita di grazie sotto questo punto di vista è chiaro che l'osservanza di un comandamento è un atto libero ma è un atto libero non nel senso che io decido se osservarli oppure no perché non c'è possibilità di scegliere se vuoi entrare nella vita e osservare i comandamenti su questo non c'è possibilità di scendere quando io dico sempre e lo ripassiamo un pochino no? Sant'Agostino dice che ci sono due manifestazioni diciamo così due forme di libertà che noi conosciamo quella tipica di ogni essere umano che è il libero arbitrio libero arbitrio vuol dire scelgo il bene o il male o addirittura tra più mali possibili che faccio vado a rubare o vado a prostitute ma scusatemi gli esempi un pochino brutali no? è una scelta se io sono un delinquento una sera non so che fare che faccio vado a rubare o vado a prostitute è una scelta no? non le si può affidare il nome di libertà perché la libertà è una cosa nobile ma libero arbitrio sì libero arbitrio dicevano i maestri di spirito e insegna la chiesa è la possibilità di scegliere o tra il bene e il male oppure addirittura tra male la libertà di cui parla Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice guardate che se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi allora la libertà di cui parla Gesù è non un punto di partenza perché noi come punto di partenza tutti gli esseri umani hanno la libertà intesa come libero arbitrio non la libertà intesa come intende Gesù perché quella non te la puoi dare da solo per quella c'è bisogno della redenzione perché la libertà quella libertà è la capacità di muoversi liberamente nell'ambito del bene quindi al di dentro del recinto dei voleri di Dio scegliendo volta per volta se mi accontento di un bene lecito quindi se mi fermo all'osservanza del comandamento se vado un po' più su quindi tendo a qualcosa di migliore o di migliore ancora o addirittura di ottimo o addirittura di eccellente questo dipende da noi ma i comandamenti si possono osservare e si devono osservare perché attenzione mentre dentro l'ambito del lecito quindi al di qua del recinto dei dieci comandamenti oh lì proprio si gusta la libertà dei figli di Dio e adesso che facciamo che faccio oggi per il Signore come gli dimostra il suo amore che vuole da me cosa mi sembra di percepire come lo voglio ascoltare cosa gli voglio dare questa è la libertà e in base a quello che diamo riceviamo dice Gesù a chi ha sarà dato a chi non ha a chi ha sarà dato sarà nell'abbondanza a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere no? quindi i comandamenti certamente sono appelli alla nostra libertà ma sono vincolanti non sono i consigli i consigli evangelici sono consigli evangelici la povertà nessuno è obbligato a abbracciare come dire le esigenze della povertà evangelica in senso stretto o anche estremo come hanno fatto alcuni santi tra cui San Francesco d'Assisi niente mi abbandono completamente alla divina provvidenza questo chi lo fa bravo ma chi non lo fa non fa niente di male anche queste cose bisogna tenerle sempre ben chiare poi chi trasgredisce i comandamenti di Dio pecca gravemente pecca gravemente evidentemente quando si trasgredisce un comandamento in materia grave adesso spiego perché peccando gravemente contro Dio si merita l'inferno ci sono tanti esempi anche i precetti del decalogo possono dar vita a peccati peniali cominciamo subito con gli esempi per esempio un piccolo gesto superstizioso tipo che ne so mi metto al collo il quadrifoglio non è un atto di virtù al collo è bene portare il crocifisso ma mettersi il quadrifoglio non è come andare dal mago a farsi leggere le carte quindi è una piccola superstizione e quindi è un peccato veniale così come chi legge per curiosità l'oroscopo non è che ci crede veramente ma lo legge un po' per curiosità quindi sappiamo bene che la curiosità è sempre cattiva consigliera e non è mai virtù quello è un piccolo peccato veniale però di per sé chi legge seriamente l'oroscopo pecca gravemente il vostro primo comandamento e al secondo non nominare il nome di Dio in vano quindi quando si nomina il nome di Dio nell'intercalare domenica scorsa ho fatto presente che non che non si devono usare nell'intercalare il nome di Dio della Madonna o dei Santi no? tipo quando si dice Madonna o cose di questo genere anche senza mettere ulteriori epiteti però quello è ordinariamente un peccato veniale invece le bestemmie sono ordinariamente un peccato mortale ma siamo sempre nell'ambito del secondo comandamento no? ecco quindi abbiamo l'ottavo comandamento se io dico una bugia di scusa è un peccato veniale non è un peccato mortale il settimo comandamento quello che tutti quanti ci hanno preso rubare se io mi rubo che ne so un'albicocca valore di un'albicocca che saranno 30 centesimi io non vado a fare 50 centesimi certo che mi devo confessare perché non si ruba quello è un peccato non è che mi devo confessare se mi vado a confessare lo porto in confessione come peccato veniale perché lo è ma ho detto se mi vado a confessare essendo peccato veniale non è indispensabile la comunione ai fini per esempio della recessione della Santa Eucharistia certamente andare a ricevere la Santa Comunione con l'anima gravata di molti peccati veniali non ci dispone a ricevere tutti i frutti del sacramento come dice Santo Ommaso però non ci impedisce di farla quindi dentro questo ambito dentro l'ambito del lecito quindi dentro del recinto noi ci muoviamo liberamente però quando c'è una trasgressione ai dieci comandamenti bisogna valutare che ci sia materia grave perché la Madonna Fatima ha detto che i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne questo l'ha detto e adesso c'è un sacco di gente che adesso va va di moda come dire una sorta di intelligente e apparentemente fondata minimizzazione dice per qualcuno esistono tanti peccati sessuali oppure pare che sia peccato solo quello che comincia dalla usano questa espressione dalla cintola in giù e ci stanno tante altre cose ma certo che ci stanno tante altre cose certi peccati i comandamenti sono disposti in ordine evidentemente gerarchico un aborto è chiaro che il peccato è più grave di un atto impuro questo non è che ci vuole la scienza infusa per capirlo quinto e sesto comandamento però qual è il problema dei peccati del sexto l'ho detto tante volte in tanti cicli di carichese che in Reveneria non datur parvitas materie quindi la materia è sempre grave quindi se lo fai hai già fatto un peccato grave da un punto di vista oggettivo se poi ci metti la piena avvertenza e il deliberato consenso hai fatto un peccato mortale e te ne vai diritto un diritto all'inferno perché l'inferno esiste figlioli miei cari non è che non esiste e non si può non parlarne o non si può minimizzarne la portata o non si può nemmeno lontanamente niente far passare il messaggio che siccome Dio è misericordioso comunque vada va a finire sempre a trattare la luce e vino e abbiamo scherzato queste sono cose che non ci sono mai state dentro il patrimonio dottrinale magisteriale e spirituale di nostra Santa Madre Chiesa mai state quindi nessuno diaretta a queste cose mi raccomando possiamo introdurre vedo ci abbiamo un pochino di tempo almeno introdurre il primo comandamento 169 che ci ordina il primo comandamento io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio al di fuori di me ci ordina di essere religiosi cioè di credere in Dio amarlo adorarlo e servirlo come l'unico vero Dio creatore e signore di tutti attenzione questo è il primo comandamento la prima cosa in assoluto ditemi quanti esseri umani conoscete che osservano il primo comandamento essere religiosi qui rimando al ciclo di Catechesi su vizi e virtù religiosi non significa essere religiosi vuol dire che devono farsi falati o suore non è questo essere animati praticare la virtù di religione la virtù di religione dispone l'anima a compiere fedelmente fervorosamente devotamente con gioia tutti i propri doveri verso Dio credere in Dio a Dio che si rivela si legge nella Dei Verbum è dovuta all'obbedienza è dovuta all'obbedienza della fede non è un optional è dovuta amare Dio è dovuto perché è oggetto del primo precetto della carità quindi essere religiosi credere in Dio amarlo adorare Dio altro atto della virtù di religione con gesti interni e con gesti esterni con le genuflessioni con lo stare in ginocchio quando è opportuno e anche un pochino di più noi non siamo semplicemente anime non siamo angeli a parte che anche gli angeli non sono esseri come dire fumi che vagano a quello che ci è dato di comprendere di sapere come dire gli angeli a parte il fatto che hanno le ali ma hanno una conformazione diciamo così certamente spirituale ma simile alla nostra quindi si inginocchiano io ho già detto in qualche circostanza che durante alcuni esorcismi non mi ricordo se ho letto questa cosa nel libro di padre ebamontus in qualche altro libro ma ricordo bene il fatto i diavoli si prendono in giro si sfottano dicono noi siamo più bravi di voi perché voi davanti al vostro dio durante la messa o altre cose state in piedi come degli stoccafissi e dei baccalà noi quando invece quello si affaccia all'inferno siamo costretti a stare tutti in ginocchio gli angeli no che non c'hanno le ginocchia che ci fanno male come noi esseri umani però c'hanno questa conformazione che a quanto pare sembra essere non molto distante dalla come dire dalla forma di un essere umano e quindi possono come dire certamente spiritualmente non gli fa male ma esprimere questa cosa anche nei gesti quindi credere in dio è oggetto di un comandamento a dio questi livelli è dovuto all'obbedienza della fede amare dio è oggetto di un comandamento adorare dio è oggetto di un comandamento e servirlo come l'unico vero dio e creatore io servo lui faccio quello che vuole a lui vi disco a lui quindi è molto importante e quindi qui a contrario sono tutti quanti gli atti contrario alla virtù di religione quindi l'ateismo l'eresia lo scisma l'irreligione la mancanza di devozione il non adorare il sacrilegio l'indifferenza e l'irriverenza infatti 170 c'è la specificazione di alcuni gravi peccati contro il primo comandamento che ci proibisce il primo comandamento il primo comandamento ci proibisce l'impietà la superstizione l'irreligiosità l'apostasia l'eresia il dubbio volontario e l'ignoranza colpevole delle verità di fede voglio vedere qui chi si va a confessare eh andiamoli a vederli uno per uno perché i primi tre il catechismo li spiega subito cioè l'impietà la superstizione l'irreligiosità ma gli altri dobbiamo un attimo dire qualcosa anche noi soprattutto sul dubbio volontario e l'ignoranza colpevole delle verità della fede leggiamo 171 172 173 e poi ci fermiamo andando a dare un'occhiata a una cosa che faccio io perché il catechismo non ne parla sugli altri punti allora 171 che cos'è l'impietà? l'impietà è il rifiuto a Dio di ogni colto l'empio il contrario dell'empio è l'uomo pio mi raccomando amici miei non accada mai che vi vergognate di fare un gesto di culto di adorazione a Dio specialmente esterno che faccio io mi vergogno che mi vergogno di inginocchiarmi ma stiamo scherzando ma c'è gente che non si inginocchia perché si vergogna dice se mi vedono ma mi posso umiliare in questo modo nei piccoli paesi questo ve lo assicuro perché so com'è andarsi a confessare se uno sa che ti sei andato se si sa in giro che ti sei andato a confessare è una cosa di sdicevole sei andato a confessare e che gli devi dire al prete e che c'è a fare ah io non c'ho bisogno di me che andavo a confessare io non faccio niente di male se sei andato a confessare così significa chi lo sa chi sei come se uno si dovesse che si va a confessare necessariamente deve aver fatto chissà che o chissà che cosa quando le confessioni dei buoni cristiani dovrebbero essere dovrebbero essere sempre tutte e sole confessioni come si dice di devozione dove si confessano piccole mancanze peccati di venire semine liberate imperfezioni volontarie involontarie basta però appunto perché i comandamenti come abbiamo sentito si possono osservare tutti e sempre anche se tentati il rifiuto a Dio di ogni culto non omettere mai nessun gesto per appunto un rifiuto che è ancora più che oppure per vergogna sul canale telegram vedi commenti ogni tanto se posso fare quando i collaboratori gli amministratori postano un pochino di cose sulla modestia c'è un articolo bellissimo che forse lo postiamo domani che abbiamo visto oggi molto bello ti immaginiamo i commenti dice ah io mi vorrei tanto mettere il vero in chiesa però mi vergogno poi mi distruggono premesso che siamo sempre liberi premesso che oggi una cosa di questo genere non è comandata sotto pena di peccato perché è caduta in disuso quindi non credo che il nostro Signore nell'attuale condizione possa come dire trattare come se fosse un peccato una cosa di questo genere perché il nostro Signore ci giudica sempre nella situazione in cui ci troviamo ma il fatto di per sé è un fatto disdicevole perché se tu non lo fai per questo motivo tu stai negando un culto a Dio certamente non strettamente necessario ma assai conveniente se tu conosci bene il significato della storia di questa cosa per amore delle creature e questo non bisogna farlo quando si passa davanti al tabernacolo si deve fare la genuflessione non come diceva San José Maria e scrivà lo scaccia mosche lo scaccia mosche per quanto riguarda la scaccia mosche per quanto riguarda la scaccia mosche ma anche davanti al Santissimo Sacramento c'è chi fa una specie di inchinetto no? cioè che piega il ginocchio di due centimetri facendo una cosa che è un pochino cioè se uno ci prese che stai a fare? cioè la genuflessione la devi fare fatta bene a meno che uno non ci abbia problemi se uno c'è problemi con la ginocchia che non si può non può genuflettere cosa possibile non puoi genuflettere fai un inchino profondo se non puoi ma se puoi tu devi genuflettere come? in nome di Gesù in ginocchio si piega in cielo sulla terra e sotto terra gli atti di culti devi offrire al Signore non sono un opzionale non farlo è peccato di irriverenza irriverenza è anche un fatto esteriore ok? vabbè che cos'è superstizione? 172 superstizione è il culto divino dilatria reso a chi non è Dio o anche a Dio ma in modo non conveniente perciò l'idolatria o il culto di fazze divinità di creature il ricorso al demonio agli spiriti e ad ogni mezzo sospetto per ottenere cose umanamente impossibili o l'uso dei liti sconvenienti vani o poibili dalla Chiesa la superstizione l'idolatria il culto di fazze divinità cosa che noi dobbiamo affermare è un conto è la necessità di dialogare con tutti anche con persone che sono di altre religioni e come dire il rispetto di una coscienza diversa chiaramente dalla nostra che in buona fede soggettivamente pensa che la sua religione sia vera ma noi sappiamo che non è così e per cui noi non possiamo mai per nessun motivo né pensare né credere che il cattolicesimo neanche il cristianesimo perché la pienezza della verità sta nella Chiesa cattolica sia a livello degli altri perché le altre divinità sono false perché l'unico vero Dio è il Padre il Figlio e lo Spirito Santo e ce l'ha rivelato il nostro Signore Gesù Cristo ora ripeto questa è una cosa che va annunciata e ci possono essere delle situazioni di soggettivo impedimento perché se una persona è sempre cresciuta nell'ambito di un'altra religione quindi che è convintissima che quella sia la vera religione giusta ci possono essere nel cuore tante situazioni che Dio valuterà nel giudicare quella persona ma questo non toglie la perentorità di questa affermazione c'è una divinità vera e le altre sono false e poi c'è il diavolo tutte quante le pratiche magiche o esotetiche che si fanno ricorrendo al diavo 173 che cos'è l'irreligiosità è l'irriverenza a Dio e alle cose divine come tentare Dio il sacrilegio tutte quante le comuni sacrileghe le confessioni sacrileghe tentare Dio tentare Dio significa o tu fai quello che dico io o io non faccio neanche un passo in avanti come fece Israele a Massa Miriba come propose di fare il diavolo a Gesù e a Dio buttati giù vediamo se quello che è scritto nei salmi è vero mettiamolo alla prova non siamo noi che mettiamo alla prova Dio Dio che mette la prova a noi e Dio ci mette alla prova la profanazione di persona o di cosa sacra profanazione di persona sacra amici cari l'abito diciamo così di preti frati e suore va sempre rispettato l'abito se non altro l'abito rispettare l'abito non vuol dire che se ci sono delle oggettive mancanze da parte di chi porta l'abito o delle oggettive storture cioè chi porta un abito dice una eresia e siccome porta l'abito dico va bene detto bene no ma nel correggere chi porta un abito bisogna sempre agire in un certo modo lo dice Sant'Omaso non lo dico io quindi la profanazione delle cose sacre la simonia o la compra e vendita di cose spirituali o connesse con le spirituali attenzione prima di chiudere il proprio tempo il dubbio volontario è l'ignoranza colpero delle verità di fede il dubbio volontario è un peccato grave perché perché le cose della fede non sono oggetto di dubbio non possono esserlo perché il famoso caso Galilea anche sta cosa l'ho citata cento miliardi di volte le verità di fede per la fonte da cui provengono che è Dio perché le verità di fede le ha rivelate Dio e le propone a credere autenticamente la chiesa non c'è nessuna possibilità di errore dubitare di una cosa di fede sarebbe dare a Dio del bugiardo perché è chiaro che vada sì con una cosa di questo genere non è certamente un peccato peniale no? e poi l'ignoranza colpevole delle verità di fede questa è una cosa diffusa quanta gente non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo perché se questo fosse vero non c'è nessun peccato non solo che non c'è il peccato dell'ignoranza colpevole nelle verità della fede ma probabilmente se tu sei inconsapevolmente ignaro anche tante circostanze attenuanti per tante cose cattive che hai fatto ma solo se c'è questa condizione bene credo che per oggi possiamo fermarci anche perché la voce sta quasi finendo insieme al tempo se Dio vuole ci risentiamo su questo stesso schermo tra un paio di settimane e che Dio vi benedica a tutti della Santa Vergine Beatissima Sè